buongiornissimo raga ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a fare un bilancio sui convocati e sui ballottaggi dell'italia ai mondiali 2018 di ciclismo si svolgeranno il 30 settembre a innsbruck parliamo ovviamente della categoria uomini elite davide cassani diciamo che abbastanza le idee chiare anche se ci sono ci rimangono altri due tre ballottaggi da da snodare insomma comunque le convocazioni sono più o meno ben delineate il capitano ovviamente è vincenzo nibali che sarà circondato dagli altri corridori insomma tutto tutto partirà da vincenzo nibali che è il capitano della nostra nazionale tutte le speranze sono riposte in lui tutte nel sì nel fenomeno siciliano della barra in merida nello scuolo dello stretto arriva questo mondiale ancora non sappiamo in che stata di forma anche se sembra increscendo visto che sono arrivate comunque buone sensazioni dalla vuelta l'altro giorno quando ha provato ad andare in fuga è sembrato un nibali brillante un nibali scattante insomma comunque è un nibali che sembra si sia ripreso comunque dopo l'infortunio all'alpe d'huets con la rottura delle vertebre insomma un nibali che si dovrebbe comunque presentare al mondiale in un discreto stato di forma speriamo almeno all'80 90 per cento già un nibali all'80 90 per cento penso che possa competere per il mondiale almeno questa è la mia opinione gli altri azzurri che sono invece già sicuri della qualificazione della convocazione nazionale sono Damiano Caruso, Domenico Pozzoriva, Alessandro De Marchi, Franco Pezzotti e Gianni Moscon con Damiano Caruso insomma che comunque può essere un buonissimo gregario insomma è comunque una garanzia con i piazzamenti in top 10 anche al Tour de France insomma in salita se la cava sempre molto molto bene Caruso come Domenico Pozzoriva che tra l'altro quest'anno alla Barri in Merida ha disputato un grandissimo giro d'Italia ha concluso al quinto posto insomma ha dimostrato comunque di stare al passo con i big poi da gregario è un gregario di lusso insomma uno come Pozzo Vivo in salita il piccolo scalatore Lucano che ha grandi dosi da scalatore può davvero far bene a questo mondiale in supporto allo squadro dello stretto Alessandro De Marchi il friulano della BNC che ha confezionato una grandissima vittoria d'autore a questa vuelta di Spagna in fuga sembra in buonissima condizione per questo Davide Cassani non è assolutamente intenzionato a rinunciare al corridore della BNC un altro sicuro della convocazione sarebbe Franco Pelizzotti che ha già fatto comunque il gregario a Nibali negli ultimi anni alla Barri in Merida soprattutto insomma che viene da buonissimi giri d'Italia insomma un Pelizzotti che anche lui è sempre una grande garanzia sia per la nazionale sia comunque per Nibali l'intesa tra i due è sempre molto molto buona e Gianni Moscon che insomma potrebbe essere comunque la carta sorpresa chissà magari dopo la squalifica al Tour de France si sta allenando da solo in altura per arrivare al top al mondiale secondo me può far bene se in caso che Nibali magari saltasse Moscon può essere la carta sorpresa dell'Italia come l'anno scorso andò via con Alaphilippa insomma al mondiale norvegese insomma un Gianni Moscon che può essere la carta sorpresa dell'Italia e può essere una specie di vice capitano in caso appunto saltasse Nibali perché insomma Moscon va bene su tutte le superfici e su questo mondiale io lo vedrei anche bene come percorso insomma comunque un mondiale duro e Gianni Moscon ha dimostrato anche di tenere sul duro infatti facendo il gregario anche a Chris Froome nella Sky ha dimostrato anche in altura di sapere andare molto molto bene oltre che nelle classiche quindi mi aspetto davvero grandi cose anche da Gianni Moscon sono tanti dubbi invece che circondano Fabio Aro ancora in dubbio per la qualificazione a questo mondiale visto che anche in questi giorni ha dichiarato che vestire la maglia azzurra è un onore però non sa se potrebbe essere d'aiuto agli altri compagni visto che la condizione del corridore sardo è comunque molto molto precaria dopo l'orrendo Giro d'Italia disputata sta disputando anche una vuelta decisamente sotto tono tanti problemi di salute in questa stagione per Aro forse anche un po' sfortunata ma insomma è bene al di sotto delle aspettative e non sappiamo in che condizioni si presenterà e quindi Cassani è davvero molto molto dubbioso per questa convocazione gli ultimi due pallottaggi riguardano Davide Formula e Gianluca Brambilla e l'altro invece è Salvatore Puccio e Diego Ulissi quello tra Davide Formula e Gianluca Brambilla è davvero intrigante perché comunque tutti e due stanno disputando la vuelta sono spesso in fuga insomma è a sorpresa Gianluca Brambilla sembra essere favorito sul talento Davide Formula visto che Brambilla comunque sta anche in salita e se la sta cavando molto molto bene sembra essere molto brillante sta mandando dei segnali importanti a Davide Cassani anche nell'ultima tappa è arrivato comunque a due minuti e mezzo mi pare più o meno da Pinot quindi insomma in buonissima forma al corridore della Trek un Formula che parte leggermente indietro Gianluca Brambilla tra l'altro è il migliore italiano in classifica generale è addirittura tredicesimo ha fatto un balzo ieri insomma quindi è un Gianluca Brambilla che per questo è in vantaggio su Davide Formula perché in questo momento è ritenuto più pronto rispetto all'eterna promessa delle ciclisme italiane ancora non è esploso forse Davide Formula l'altro ballottaggio appunto riguarda Salvatore Puccio o Diego Ulissi insomma Davide Cassani è ancora molto indeciso è indeciso perché insomma un Diego Ulissi che ha dimostrato comunque scarsa continuità visto che la classe del corridore livornese è decisamente incostante invece Salvatore Puccio ci darebbe qualche garanzia in più sull'essere Gregario comunque un faticatore da sempre Gregario comunque nella Sky di Chris Frumo anche di Bradley Wiggins lo è stato insomma un Puccio che è abituato comunque a fare il Gregario chi lo sa che cosa sceglierà Cassani sicuramente Ulissi se si sveglia bene il giorno del mondiale può regalare soddisfazioni Puccio è uno che dà un pochino più la garanzia Ulissi è assolutamente un terno all'otto secondo me è molto molto rischioso come scelta rispetto magari all'usato sicuro Salvatore Puccio voi fatemi sapere nei commenti invece chi convochereste questi due ballottati ovvero convochereste Fabio Ario o convochereste Davide Formula o Brambilla Salvatore Puccio o Diego Lissi siete d'accordo con le convocazioni di CT Cassani fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto condividete questo video lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto un dislike se proprio lo odiate e spiegatemi perché noi arrivederci ragazzi e vediamo al prossimo video e vediamo al prossimo video Grazie a tutti